Presso il campetto adiacente alla chiesa di San Luca si è tenuta la partita dell'amicizia per il quinto memoria Liborio Gattuso. Ad affrontarsi sul campo le squadre della nazionale del quartiere San Luca guidata da Nello Ambra presidente del comitato e la rappresentativa dello Juventus fan club di Caltanissetta presieduto da Lillo Rizza. A fine partita ha vinto la nazionale del quartiere San Luca ma a trionfare è stato lo sport e il ricordo delle due squadre per Liborio Gattuso. Siamo arrivati al quinto anno del memoria Liborio Gattuso era doveroso che noi continuassimo ormai con questa tradizione perché Liborio Gattuso è stato uno dei cofondatori una colonna portante del comitato di quartiere nato 16 anni fa. Ne approfittiamo in occasione di questi tornei dove ci sono tanti squadri e tanti ragazzi dove c'è la finalità quella dell'inclusione dello stile di vita dello sport perché sappiamo ben benissimo che i giovani facendo sport oltre a creare benessere è il primo passo per le famose regole che non servono solo allo sport ma servono anche nel proseguo della vita. Adesso questa sera abbiamo una bellissima partita di all'amicizia del presidente Lillo Rizza ed è il club Juve contro la nazionale dei ragazzi di San Luca. Non importa noi il risultato, si stanno divertendo e ci sono tanti ragazzi che hanno accettato, apprezzato questa iniziativa e quindi continuiamo noi oltre a pensare al comitato di quartiere e quindi alle migliorie che occorrono nel quartiere giorno dopo giorno pensiamo anche alla qualità della vita dei giovani.